I disturbi del neurosviluppo e psicopatologici interessano circa il 17% della popolazione pediatrica da 0 a 18 anni ed è ampiamente dimostrato come una loro identificazione tempestiva porti a migliori possibilità di intervento e alla riduzione della frequenza e della gravità degli esiti a distanza. I disturbi del neurosviluppo si manifestano nelle prime fasi dello sviluppo, possono persistere anche nell'età adulta e sono caratterizzati da deficit del funzionamento personale, sociale, scolastico o lavorativo. Per approfondire l'argomento il CEF PAS organizza in collaborazione con Simpia, Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Sicilia, ACP, Associazione Culturale Pediatri, Centro Sicilia, ACP dello Stretto di Messina, ACP Empedocle, ACP Trinacria, FIMP, Federazione Italiana Medici Pediatri di Caltanissette e Agrigento, DISTU, Divisione Studi e Ricerca della Federazione Italiana Medici Pediatri e l'Ordine delle Professioni Sanitarie e Tecniche di Caltanissette e Agrigento, il corso di formazione sui disturbi del neurosviluppo e psicopatologici che si svolgerà in due moduli. Il primo si terrà il 25-26 novembre e il secondo il 20-21 gennaio del 2023 presso la Sala Garzia del Centro. Questo è il primo corso di formazione per pediatri di famiglia che viene svolto in Sicilia su questi importanti ambiti tematici, che coinvolge pediatri ospedalieri, neuropsichiatri infantili, fisiatri, psicologi e professionisti, dell'area della riabilitazione, per un approccio interattivo e multidisciplinare. I responsabili scientifici sono Renato Scifo, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza del Presidio Ospedaliero Acireale dell'ASPE di Catania, e Sergio Speciale, pediatra, presidente dell'Associazione Culturale Pediatri del Centro Sicilia, e Gerardo Rapisardi, pediatra e neonatologo, formatore nell'approccio Touchpoint di Brazelton, che ricerca, accoglie e valorizza le competenze dei bambini e dei genitori, riconoscendo alla loro relazione il ruolo di principale determinante dello sviluppo infantile.